Siamo qui con Francesco Alvino dopo la partita giocatasi con l'equipe campagna terminata 2-2 Francesco, partita davvero molto combattuta oggi, ha anche segnato un gol, forse un po' sfortunati ha anche sottoporta, la sanchezza era tanta però tutto sommato davvero un buon banco di prova per voi Sì, sapevamo che affrontavamo una squadra, come dicevo tutti, calciatori in cerca di squadra sapevamo che era un test difficile, noi abbiamo caricato tanto in questi giorni quindi le gambe non andavano a mille, è stato un buon test e queste partite servono per mettere benzina nelle gambe Parlando della partita, tanta corsa anche per te, come ho detto anche il gol come ha detto anche prima Mario, qualche gol poteva essere evitato però tutto sommato possiamo dire che la squadra c'è, si può già ben partire per la stagione che sapeva iniziare Guarda, il ritiro serve proprio per aggiustare i meccanismi col Ministero comunque stiamo lavorando su questo man mano troveremo anche i meccanismi giusti per evitare certi gol anche se i ragazzi dicevano che era fuori gioco quindi ripeto, il ritiro serve proprio per conoscerci siamo una squadra nuova e metteremo comunque tutto l'impegno che abbiamo per riuscire ad arrivare ai meccanismi giusti quanto prima Ecco, prendendo in prestito le parole di Mario ha detto che la squadra è carichissima tu come ti pone all'inizio della stagione? Ricordando che domani ci sono già i gironi Guarda, ogni girone è difficile quindi usare la lacca lì non lo so non guardiamo a questo, guardiamo solo a far lavorare e a dare il meglio per questa maglia Perfetto, noi ringraziamo allora Francesco Alvino Grazie a te